Il sindaco Pierluigi Biondi replica all'opposizione sulla questione dei lavoratori precari dell'ente. Stupiscono le affermazioni di chi, usando i lavoratori del comune come scudi umani, si rende protagonista di uno spreggevole sciacallaggio politico. Con queste parole Biondi replica le dichiarazioni di alcuni esponenti dell'opposizione che hanno bollato come spot elettorale il prolungamento dei contratti del personale assunto dall'ente comunale, assunto ai sensi delle normative emergenziali, sino al 31 dicembre del 2020. Ricordo a tutti, ha chiarito Biondi, che sino all'arrivo di questa maggioranza le proroghe sono state mensili, semestrali o al massimo annuale e vale la pena rammentare come in alcuni casi dipendenti precari del comune siano rimasti fuori dai provvedimenti di proroga con conseguenti eclatanti manifestazioni pubbliche e occupazioni della sede di Palazzo Fibioni. Per la prima volta inoltre è stata data continuità lavorativa alle educatrici dei nidi i cui contratti scadevano a giugno per poi essere riattivati a settembre. Ci impegneremo a garantire la copertura contrattuale per i mesi estivi anche in futuro. Solo grazie a questo atto inoltre è stata data una copertura giuridica alle posizioni lavorative di questi dipendenti che altrimenti nella malagurata e sciagurata ipotesi di mancati trasferimenti dal governo sarebbero stati licenziati automaticamente. Adesso invece sarà possibile ipotizzare un anticipo delle somme qualora ve ne fosse la necessità.